La serata del Sambato ha presentato al pubblico il duo Cintura Gerolin con chitarra e fisarmonica, che ha incantato gli spettatori con l'abilità tecnica e la capacità di trasmettere emozioni attraverso le corde e i mantici. Spettatori in piedi, ovazioni fragorose e applausi scroscianti, così è stato accolto il concerto Un pensiero triste che si balla, che ha saputo catturare l'essenza dell'arte musicale, unendo melodie malinconiche a ritmi con musiche di Astor Piazzolla. Il luglio musicale trapanese ha raggiunto il suo curmine con la messa in scena ieri sera della Bohème, un capolavoro dell'opera lirica che ha trascinato il pubblico attraverso passioni, amori e tragedie. Le voci dei solisti, affiancate dall'orchestra e dai cori, hanno espresso il tema e l'essenza della Bohème di Puccini. Tra i presenti, anche l'assessore alla cultura Rosalia Delì, che si è soffermata sulla programmazione di eccezionale qualità del luglio musicale trapanese. Una sinergia importante che ha dato vita ad una stagione meravigliosa, con tante opere importanti, di altissimo profilo. Oggi la Bohème ci sta regalando davvero una serata speciale, ma non finisce qui, anche i concerti, i balletti che sono in programma a fine agosto e prima di settembre. Ma la stagione dopo la Bohème continua anche fuori dal Teatro di Stefano della Villa Margherita, al San Domenico, dove abbiamo una serie di concerti, di iniziative. Avremo anche qua un bellissimo opera di prosa, che è quella tratta da un romanzo della trapanese Mari Zadanna e poi ci prepariamo anche per la stagione invernale al Teatro Pardo. Questo per dire che il luglio musicale è vivo, è vivo, fa spettacolo, fa cultura, fa teatro, cerca di raccogliere interessi un po' culturali dei cittadini e non soltanto, ed è veramente la partecipata del comune su cui noi investiamo per far crescere culturalmente questa città.